Ilaria Varenna è la Marketing and Communication Specialist di Progea. Ilaria, buonasera. Seconda giornata di SPS. Allora, una carrellata su quella che è la produzione di Progea. Allora, Progea è un'azienda italiana con sede a Modena, è un'azienda che si occupa di sviluppo di soluzioni SCADA e siamo tra i maggiori riferimenti nel mercato dell'automazione. Progea è presente a livello internazionale con tre filiali in Svizzera, Germania e Stati Uniti e una rete di distributori e system integrator certificati. Progea investe molto nell'innovazione perché ha una sorta di vocazione e investiamo circa più del 30% di risorse nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Quest'anno a SPS Italia 2018 abbiamo presentato l'ultima release della nostra soluzione SCADA che è Movicon Nexta che si basa su Framework Automation Platform Nexta. Movicon Nexta è completamente modulare, tre sono i moduli che ritengo siano interessanti e sono Movicon Prolin, Movicon Pro Energy e Movicon AR. Il primo, Movicon Prolin, è un modulo pensato per l'efficientamento produttivo del macchinario o della linea. Movicon Pro Energy è stato studiato e dedicato all'efficientamento energetico, al monitoraggio energetico dell'impianto. Il terzo modulo è il modulo AR, il modulo di realtà aumentata che permette di interagire con la supervisione. La novità di quest'anno è l'integrazione dell'intelligenza artificiale che permette il riconoscimento degli oggetti tramite degli dispositivi indossabili come gli Ololensa, per i quali abbiamo qui in fiera un'applicazione dove appunto permettiamo con l'utilizzo degli Ololensa di provare questa realtà aumentata. A quali segmenti industriali vi rivolgete? Ci rivolgiamo a tutta l'industria, nel senso che ci rivolgiamo a tutti i machine builder, agli OEM, fornendo le soluzioni per qualsiasi settore, qualsiasi industria, dal farmaceutico all'oil and gas, al settore automotive, alle infrastrutture. Progea è presente, espone ad SPS. Qual è la vostra valutazione della fiera e a quale manifestazioni partecipate? Allora, la fiera di SPS Italia è la fiera a riferimento nel settore dell'automazione in Italia e a cui partecipiamo e dove partecipano tutti i maggiori player del settore. Noi partecipiamo ad SPS Italia e partecipiamo anche a SPS Norimberga, che sono per noi due eventi importanti. Riteniamo che SPS sia una vetrina molto importante a cui partecipiamo e anche quest'anno stiamo avendo dei buoni risultati, con un numero di visitatori molto elevato e sia a livello quantitativo che qualitativo c'è stato un miglioramento e un incremento. Benissimo, allora buon lavoro e buona conclusione di fiera domani. Grazie, altrettanto. Grazie a tutti.